Io nasco professionalmente in Banca Mediolano, nel 1993 ad aprile mi laureo in economia e commercio al Politecnico delle Marche e nel giugno del 1993 entro in programma Italia Investimenti Sim. Faccio tutta la mia carriera di venditore, diciamo così, in Banca Mediolano, in programma Italia Investimenti prima e Sim e Banca Mediolano poi e poi tutta la carriera la faccio in Banca Mediolano, ma attraverso prima come Global Banker, poi dal 2006 come Private Banker e da quando è nata la divisione di Wealth Advisor sono uno dei 35 Wealth Advisor in Banca Mediolano. In verità io di frasi ne ho due che mi rappresentano, la prima è che la vita è una cosa meravigliosa, la seconda è che preferisco essere ottimista ed avere torto che essere pessimista ed avere ragione. Per me essere Wealth Advisor significa essere un professionista a servizio della grande famiglia, a servizio dell'imprenditore, a servizio della clientela patrimonializzata che ha esigenze complesse, esigenze che possono essere risolte da un'organizzazione che ho alle spalle, che mi consente di essere tranquillo perché qualsiasi sarà l'esigenza io sono in grado di poterla risolvere. Partecipare allo spot di Banca Mediolano per me è stato divertente, è stato scoprire un mondo che non conoscevo, è stato partecipare alla realizzazione di un piccolo film con una casa di produzione importante, con una casa, con un'agenzia creativa tra le più importanti al mondo e quindi mi sono sentito veramente un piccolo divo in quel periodo, quindi è stato veramente molto bello. Quello che ne ha seguito è stato ancora più bello ed interessante perché è stata una continua scoperta, un continuo arrivo di mail, di telefonate, di incontri di persone che mi guardano e mi vogliono parlare. Consiglierei a un altro professionista di venire in Banca Mediolanum per due motivi. Il primo è che questa è una banca posseduta e gestita da una famiglia e quando una famiglia e un imprenditore fa investimenti non li fa soltanto perché è attento alla trimestrale o alla semestrale, ma li fa anche perché da buon padre di famiglia fa investimenti nel lungo termine e fa azioni nel lungo termine e fa azioni anche coraggiose nei momenti in cui è giusto farle. La seconda motivazione è che questa è l'unica banca sul mercato ad avere un unico core business. Non ha rami di azienda. Io sono il ramo d'azienda della banca, sono l'unico motore attraverso il quale la banca fa business e quindi su di me la banca concentra tutte le sue risorse, formative, informative, commerciali. Io sono l'unica persona importante per il business di questa banca. iscriviti al canale